30 anni senza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono stati 30 anni con loro. Sono stati con noi nel cammino verso la legalità. Li abbiamo sentiti nella legge sull'uso sociale dei beni confiscati. Li abbiamo visti quando lasceva la rete investigativa europea per il contrasto alle mafie. Erano sempre con noi, tutte le volte in cui gli immobili sono stati sequestrati alla mafia. E continuano, ogni giorno, a ispirare chi vuol veder nascere un paese migliore.